La preparazione di questo piatto particolare che si chiama afrascatola o picciotta, dipende poi dalla zona geografica dove viene fatto questo piatto. Qui si utilizza come in questo caso utilizzeremo della farina mista, qua ci sarà grano prodotto ovviamente in loco, fave, ceci, ci cerche, quindi diciamo un misto di legumi e farinacei misti. A questo vanno accoppiato appunto delle verdure che in questo caso sono broccoletti, broccoletto siciliano, la parte grassa del piatto è la pancetta. Prima si prepara aglio e olio e la pancetta, si fanno fare assieme perché l'aglio se no si brucia. Quindi adesso andiamo a mettere la pancetta? Facciamo soffriggere bene, la facciamo rosolare bene, tra il sole. Allora facciamo dorare bene la pancetta, facciamo un po' sciogliere il grasso in eccesso appunto contenuto dalla pancetta, quando tutto sarà ben dorato già inizia a scoppiettare quindi è sinonimo di buona preparazione. Nonnina o zia? Come provisci? Nonnina ci sono, sono bisnonna, da 25 anni. Bene. Ancora un paio di minuti di cottura, saranno pronti. Quindi possiamo aggiungere direttamente questo? Sì, sì. Va bene, faccia lei, faccia lei. E ci fate caso il broccoletto si è già così spappolato quindi ha cambiato la cosa consistenza, adesso scendiamo questa e aggiungiamo la farina giusto? Sì. Ok, questa operazione va fatta a freddo. La farina va aggiunta poco alla volta, come in questo caso. Operazione delicata, meticolosa. e si andrà a cambiare, perché il lievito funge già da addensante e quindi comincia diciamo così a fare quella, a stringere perfettamente. l'accendiamo? Sì. Allora, vediamo la consistenza è giusta? No, no. Ancora ci vuole. Ancora ci vuole. Quindi questa è la consistenza un po' mollizia, quindi aggiungeremo un altro po' di farina per dare più consistenza al piatto. Questo tipo di bolle, vedete? Questo è il segno che la frascatola ha raggiunto. è in cottura, è in cottura, è in cottura. Ho qualche altro minuto, un minuto dopo la prastacauta sarà pronta. Proveva di impiattarne una allora? Sì. Permette? Sì. Non lo facciamo a svuotare, è così ma che domani è felice. E noi abbiamo il tempo, non si può fare. Ah sì sì. Allora io ce l'ho il tempo, ma io ce l'ho il piccolo. Buonissima, non c'è una crema, è che tutto per la fritta. Buonissima questa. Porca giù. Diciamo che questa è la nostra frascatola. La ricetta è pronta. Brava la zia, grazie, grazie per quello che mi ha insegnato, grazie. Prego. 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 Prego.